Ciao a tutti, sono Alberto di Piedimilano e oggi partiamo col secondo video, l'usato della settimana. Oggi siamo qui in compagnia di una bellissima Honda Africa Twin 1100L, nuovissima, dico nuovissima perché è un modello 2020, quindi già l'Euro 5, con appena 3000 km. Quindi si può dire che è un usato, passatemi il termine, non usato. Ovviamente unico proprietario, l'unica cosa che ha effettuato questa moto è il primo tagliando, per il resto è una moto che ha girato ben poco. Le condizioni della moto sono qui da vedere, praticamente pari al nuovo. La moto come optional monta le barre laterali che fungono da maniglie e da base portapacchi e il cupolino touring un po' più alto dello standard. Possiamo vedere anche la bellissima strumentazione TFT, ovviamente dotata di tutti i controlli del genere, quindi controlli di trazione, ABS disinseribile, fari full led anteriore e posteriore e anche le frecce e sospensioni completamente regolabili e all'anteriore troviamo la forcella a stelle rovesciati. La moto ovviamente ha 23.000 km, le gomme sono nuove, le pastiglie sono nuove, è una moto in perfetto stato. Il prezzo di vendita, non l'avevo ancora detto, è 12.700 euro più passaggio e se vi piace la moto o se volete qualche informazione più, passate a trovarci in Via Lario 3 a Milano. Mi raccomando seguiteci anche sui nostri social Instagram e Facebook. Ciao a tutti!